Tornano in piazza nel Bassanesi i banchetti per raccogliere le firme dei cittadini che chiedono una sanità migliore. Appuntamento al Bastagna in concomitanza con il mercato settimanale, con nuove firme raccolte, mentre sabato mattina sarà la volta del capoluogo. A Bassano, infatti, sarà possibile firmare e inviare delle fosse all'angolo con via Jacopo da Ponte. Centinaia le firme già raccolte, legate a richieste specifiche su servizi sanitari indicati dai cittadini o segnalazioni di esperienze personali per chiedere dei cambiamenti.